Lo sport pallavolo femminile conegliano in finale del mondiale per club per la terza volta consecutiva. Le Venete hanno battuto in semifinale per 3-0 il Gerdao Minas. Domani ultimo atto come l'anno scorso contro il Vakif Bank. Il servizio. In scioltezza e senza nemmeno faticare troppo, la semifinale dell'Imoco conegliano contro le brasiliane del Gerdao Minas finisce 3-0 e scivola via senza grandi emozioni. Enorme la differenza nel primo set. Le brasiliane che hanno in panchina il tecnico trevigiano Nicola Negro partono troppo male per rappresentare un problema per le giallo-blu. Tanti gli errori al servizio che permettono alla squadra di coach Santarelli di chiudere facile sul 25-12. Si riparte sulla stessa falsariga e in pochi minuti si arriva sul 7-2. Poi però un temporaneo calo di tensione dell'Imoco permette al Minas di riportarsi sotto sul 9-8. Ma a capitano Volos e compagni basta mettere un po' il piede sull'acceleratore per chiudere il secondo set sul 25-17. Appena più equilibrata la terza partita, le brasiliane oppongono un po' più di resistenza, ma nulla possono davanti all'ottima prestazione di squadra di Conegliano con H e Gray, autrici entrambe di 15 punti. Vittoria che permette così a Limoco di conquistare la seconda finale consecutiva nel mondiale per club.